Mentre continuano a calare i numeri dei contagi in tutta la provincia di Padova, l'unico bollettino che viene tristemente aggiornato è quello dei decessi, in particolare quelli degli anziani ospiti nelle case di riposo del territorio. Nelle ultime 24 ore sono state tre le nuove vittime del Covid-19. Si tratta di tre anziani dell'Alta Padovana. Cittadella piange concetta a tonnellotto di Caonorai che era ospite nella casa di riposo Borgo Padova, mentre in ospedale è deceduta un'altra ospite della struttura, una 95enne originaria di Campo San Piero, Franca Avesani. Primo lutto anche tra gli anziani del centro servizi Buonora di Cittadella. Si tratta di Alberto Zandarin, 66 anni, era stato ricoverato a Campo San Piero e poi trasferito a Schiavonia dove è morto.